Il Centro Storico di Verona, uno dei più suggestivi agglomerati urbani del mondo, riconosciuto per la sua conformazione orografica, i suoi monumenti millenari e il suo inestimabile patrimonio culturale. Facilmente fruibile, grazie ai numerosi parcheggi che ne ottimizzano l'accessibilità, i principali ubicati sulle direttrici provenienti dai maggiori centri urbani del Nord Italia. L'obiettivo principale è la riscoperta da parte dei cittadini dello spazio vitale rappresentato dal centro cittadino, vero luogo di vita, di incontro e di scambio tra tutte le componenti della città. Il Centro Commerciale Naturale Verona è un tessuto di spazi ed attività che costituisce l'immagine dinamica della città e la sua identità fatta di persone. Un nuovo modo di vivere la città. L'arte, la cultura e l'atmosfera della sua tipicità del Centro Storico di Verona si contrappongono alla standardizzazione dei grandi ipermercati attuali. Il Centro Commerciale Naturale Verona rappresenta la perfetta sinergia tra l'utilità dello shopping e la piacevolezza dell'intrattenimento. Passeggiando tra i corsi storici della città si possono ammirare numerose vetrine di negozi, si può fare una breve sosta in un caffè, nei tanti bar o nelle pasticcerie storiche, trascorrendo momenti di relax con tutta la famiglia. Grazie alle numerose attività commerciali, ristoranti, bar, alberghi e negozi presenti sul territorio. Un grande ed efficiente Centro Commerciale Naturale. Il Comune di Verona, in collaborazione con Camera di Commercio, Confesercenti, Confcommercio, promuove il Centro Commerciale Naturale Verona.